Risparmiare almeno 10 mesi sul cronoprogramma dei lavori attivandosi sin da subito per lavorare sulla progettazione definitiva è l'auspicio che ieri è stato lanciato all'interno della prima commissione consigliare della regione Puglia sulla realizzazione dei nuovi ospedali del Sud Salento e di Andria che proseguono il loro iter burocratico. Durante l'audizione in commissione è stato ascoltato tra gli altri anche l'ingegner Carlo Ieva che è il responsabile unico del procedimento per conto dell'ASL BT. In commissione è emerso comunque che sarebbe imminente la comunicazione formale di via libera sui relativi progetti da parte del Ministero della Salute dopo che il 7 maggio scorso sono stati trasmessi gli studi di fattibilità aggiornati unitamente alla relazione istruttoria dovrebbe far seguito nell'arco di un paio di mesi la stipula dei relativi accordi di programma. Nel frattempo come detto le due ASL interessate si stanno già attivando per lavorare sulla progettazione definitiva al fine di guadagnare almeno 10 mesi nelle tempistiche previste per la realizzazione delle intere opere e sull'argomento è intervenuto ieri a margine della presentazione della nuova risonanza magnetica nel PTA di Trani anche il governatore Michele Emiliano che ha sottolineato la volontà della regione di proseguire in un iter soprattutto per il nuovo ospedale di Andria che è già un percorso virtuoso per l'ente regionale. Nessuna novità particolare perché stiamo aspettando ovviamente che dopo aver consegnato al governo il nostro progetto e la nostra impostazione abbiamo bisogno di conoscere poi il finanziamento e quando possiamo mettere in gara il progetto che è stato già definito. Devo dire che abbiamo saltato le tappe e abbiamo quindi fatto veramente un ottimo lavoro sulla predisposizione degli atti per l'ospedale di Andria.